Il racconto di avventura è questo l'argomento di oggi. Il racconto di avventura è un testo narrativo che racconta appunto la storia di personaggi coraggiosi pronti ad affrontare imprese emozionanti in terre inesplorate e misteriose. Lo scopo è quello di appassionare il lettore, di tenerlo col fiato sospeso. I personaggi sono reali o verosimili, cioè realistici. Possono essere pirati, esploratori, naufraghi, guerrieri, ma anche persone comuni. Il protagonista è coraggioso, intelligente, forte e leale e grazie alla sua astuzia e alla sua forza di volontà riesce ad affrontare sempre nuove sfide e a superare pericoli e imprevisti. Spesso il protagonista non è solo, ma ha dei compagni che lo aiutano a combattere contro il nemico, cioè contro l'antagonista, che è il personaggio malvagio, quello egoista e può essere una persona, ma anche una belva feroce o una forza della natura. In genere le vicende si svolgono in un tempo definito, ben precisato, nel passato o nel presente. I luoghi sono reali o realistici, ma sempre selvaggi e misteriosi, come oceani inesplorati, isole sconosciute, grotte buie o giungle inospitali o ancora terre ghiacciate e deserti aridi. E il contenuto? Ebbene, in questi racconti di avventura accadono fatti reali o realistici, ma sono fatti straordinari, sono pericoli da superare, come calamità naturali, naufragi, incontri con pirati, con belve feroci, sono frequenti colpi di scena. Ehi tu, ehi, sì sì, dico proprio a te, pensi che sia finito tutto quello che c'è da sapere sul racconto di avventura? No, ti do appuntamento alla prossima lezione. Ciao ciao! Grazie a tutti!